Cinque lezioni, confronti con giovani imprenditori, supporto di avvocati e commercialisti e di professionisti indispensabili per dare il via ad una impresa. Sono gli ingredienti del progetto Start Me Up, un percorso formativo e gratuito, dedicato agli aspiranti imprenditori della Regione Marche. Il corso nasce da un'idea della Rotary Club Ancona 2535. In questo processo di costituzione di imprese pensavamo che la cosa fondamentale fosse una formazione di natura giuridica e economica per il neoimprenditore, l'aspirante imprenditore e un accompagnamento nelle fasi di costituzione dell'attività di impresa e da 13 anni portiamo avanti questo progetto. Il corso di formazione si svilupperà tra il 3 e il 30 novembre. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 ottobre tramite la sito bandostartmeup.it. È rivolta a tutti gli aspiranti imprenditori, a prescindere dall'età, a coloro che hanno un'idea di impresa, la vogliono mettere in pratica e non importa se sia un'idea innovativa, ma l'importante è che sia un'attività di impresa da avviare. Finanza e tesoreria, pianificare l'idea di business, scegliere la forma giuridica, definire la strategia di marketing, elaborare il business plan. I temi delle 5 lezioni al centro del progetto Rotary, che per questa settima edizione vanta la partnership con l'incubatore territoriale certificato DeHive. Il valore aggiunto è quello di muovere i desideri dei giovani di creare imprese. Ancona e le marche hanno la caratteristica di essere assolutamente portate a creare imprese, perché il tasso di imprenditorialità nella nostra regione è sempre stato altissimo, quindi sono cose che vanno stimolate e quando i ragazzi di Rotary ce ne hanno parlato abbiamo sposato immediatamente il progetto. E ci auguriamo da questa iniziativa di raccogliere altri giovani promettenti da lanciare su quelli che sono palcoscenici nazionali e internazionali. Il percorso che crea imprese include anche una competizione con premi da 2.500 a 30.000 euro di credito in servizi di consulenza. Patrocina l'iniziativa e il comune di Ancona, che ha tra le sue priorità il rilancio dell'imprenditoria. L'imprenditoria giovanile, il mondo delle start-up in questa città che è un capologo di regione deve esserlo anche dal punto di vista economico. Nelle medie legge appunto c'è lo sviluppo imprenditoriale, quindi non abbiamo potuto che sposare immediatamente questa iniziativa, perché è un'iniziativa di grande valore di formazione, perché è appunto un percorso che andrà a formare gli imprenditori di oggi e del domani.